le nuvole, però voi siete in tante, prendetelo per mano, ancoratelo su questo palco, però soprattutto votatelo! Prova! Andiamo dal secondo concorrente, accompagnato da Rachele Ciro, 24 anni, impiegato di Ischia, provincia di Napoli e sua zia Giovanna! Buonasera! Buonasera ragazze, sono la zia di Ciro e mio nipote è nato e vissuto a Ischia, l'isola della Felicità, dove si mangia, si beve e si fischia, per questo è sempre felice e contento, votatelo! Brava! Sul fischia mi guarda, e non lo so, e io non capisco, lei mi guarda sul fischia, andiamo avanti! Terza concorrente, accompagnato da Veronique Carlo, 22 anni, segretario di produzione cinematografica di Roma, sua nonna Maria!